Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania e oggi voglio recensirvi un nuovo prodotto che ho trovato in un supermercato. Sto parlando delle deliziose ciambelle alle mele. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri, nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a Bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando. Questi prodotti, ripeto, non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. È un prodotto della Gluten, sono appunto ciambelle alle mele e sono senza lattosio. Questo tipo di prodotto l'ho trovato sia nei bar che lo vendono appunto come merendina, come snack e anche nei supermercati, precisamente l'ho trovato all'Ocean. La confezione è singola, io l'ho pagata 1,79 euro, diciamo che è un prezzo abbastanza caro per quanto riguarda un'unica singola merendina, però è un prodotto sia senza glutine che senza lattosio. Tutti ormai sappiamo che i prodotti gluten-free, lactose-free sono tutti molto costosi. Andiamo a leggere gli ingredienti. Le deliziose ciambelle alle mele, specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine, prodotto erogabile agli intolleranti al glutine aventi diritto. Ingredienti Uovo intero Zucchero Olio di girasole alto oleico Amido di mais Semilavorato alla mela 6% Polpa di mela 55% La percentuale di polpa di mela è riferita al semilavorato alla mela Sciroppo di glucosio Fruttosio Zucchero Amido Gelificante Pectina addizionata con pirofosfato di sodio Correttori di acidità Acido citrico, citrato di calcio Conservante, sorbato di potassio, aroma Amido di mais, uvetta 5% Acidi trattati esternamente con olio vegetale 0,5% Diciamo che ci sono un po' troppi ingredienti per i miei gusti Acidi trattati esternamente con olio vegetale 0,5% Di semi di cotone Farina di riso Amido di tapioca Poi Stabilizzante, sorbitolo Quello dell'altra volta Poi, 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 poi Sorbitolo Emulsionante Mole di glicerite, degli aciti grassi Alcol Succo concentrato di mela 1,5% Farina di semi di garuba Addensanti Farina di semi di guar Proteine di riso Agenti lievitanti Ammonio Bicarbonato Sodio Bicarbonato Sodio Pirofosfato Sale Iodato Arome Senza lattosio Lattosio inferiore allo 0,01 gramma per 100 grammi Contiene uova Prodotto in uno stabilimento dove si usano semi di sesamo Soia Frutta guscia Lupino Questo marchio garantisce che gli alimenti senza glutine a gluten sono prodotti in italia e sono frutto Di controlli accurati e stiamo parlando di questo marchio qui Questo qui È praticamente un triangolo nel quale ci sono due spighe di grano e la bandierina italiana e quindi loro dicono che questo è un prodotto senza glutine E garantisce che la gluten, la casa produttrice della merendina, non vende un prodotto col glutine Indicazioni dietetiche La linea di alimenti a gluten prepara con materie prime prive di glutine È destinata all'alimentazione di coloro che, intolleranti, devono escludere dalla loro dieta questa particolare proteina Ha una data di scadenza relativamente lunga Questa per esempio, questa merendina scade a luglio, 31 luglio 2017 Allora, prodotto da 9 Alpi SRL Pistoia Pesa un etto 55 grammi Per me questa merendina è promossa Una volta ogni tanto ci possiamo concedere un piccolo sfizio Allora, io la merendina l'ho già mangiata Infatti la bustina l'ho conservata giusto per fare la recensione La merendina non è brutta, per niente È buona, si mangia tranquillamente, è un ottimo spuntino, è un ottimo break Solo che adesso, allora diciamo che io l'ho acquistata e l'ho mangiata Lì per lì Proprio mentre giravo nella galeria Ocean, ho detto ok me la mangio Perché comunque è allettante, mi è piaciuta, l'ho guardata L'ho sempre vista nei bar, come dicevo prima E questa cosa mi ha incuriosito Non è male, è buona Contiene, è esattamente come la vedete nella fotografia Precisa Contiene appunto pezzi di mela Ce ne erano giusto due pezzettini di mela Sa di mela, non è un gusto preponderante quello alla mela Però si capisce che si sta mangiando un prodotto che contiene mela È buona, dicevo, non ha zucchero in superficie come le classiche giambeline Mr. Day Che erano buonissime e io quelle qualche volta le ho mangiate E posso dire quindi che la mia recensione è comunque positiva Nel senso che mi è piaciuta la merendina Ma non mi piace che contenga tutti questi ingredienti Cioè sono tanti Sono veramente tanti Troppo, troppo, troppo Quindi ok, la merendina è buona Può essere mangiata tranquillamente Non fa male, non mi ha fatto male Non ho avuto effetti collaterali Però è come un'emergenza Come dico sempre, quando c'è un'emergenza Un calo di zuccheri Questo si può mangiare Non comprerei la confezione Come a volte mi capita per altri prodotti Io non mangio tantissime merendine Però quando sono fuori Magari mi capita di dover fare colazione al volo E come nella recensione precedente Vi lascio sulle schede informative Il video precedente Ho fatto la recensione del dolcetto della Freddy Quindi quella è un'altra merendina Che sì, ok, contiene qualche schifezzina Però si può mangiare una volta ogni tanto Questa ogni tanto si può mangiare La mia recensione termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Soprattutto che vi sia stato utile Vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti Così non vi perderete i prossimi video E vi lascio giù nell'info box Tutti i link ai miei canali social Seguitemi anche sui canali social Qui sopra impressione trovate tutti i canali A cui sono iscritta E alla prossima Ciao Ciao